Carissimi bellunesi, è il vostro presidente della provincia che vi parla in un momento ancora molto difficile nella lotta contro il coronavirus. Io sono convinto, ne usciremo e questo lo dobbiamo sicuramente a tutte quelle persone, la stragrande maggioranza, che oggi stanno rispettando le regole, escono di casa semplicemente o per lavoro o per motivi di salute o per andare in farmacia o per fare la spesa. Ecco questo è il comportamento che dobbiamo usare. Sicuramente dobbiamo cercare di convincere coloro i quali non le stanno seguendo queste regole a rimanere a casa il più possibile perché loro devono capire che contribuiscono alla salute propria ma anche di tutti gli altri. Ecco questo è il messaggio che vi voglio dare in questo spazio che mi è stato dedicato. Nei prossimi giorni il coronavirus potrebbe rallentare ma questo non ci deve indurre a cambiare i comportamenti che stiamo attuando in queste giornate. Io mi rendo conto che è difficile cambiare la vita, la quotidianità, cambiare le proprie abitudini ma dobbiamo farlo perché questo ce lo impone questa epidemia che ci ha colpito così in maniera inaspettata ma così forte, dolorosa e anche con grandissime criticità. Ecco perché oggi voglio esprimere anche tutta la mia vicinanza al mondo economico, in particolare al mondo del commercio per i tanti negozi che purtroppo devono rimanere chiusi, al mondo dell'artigianato, all'industria, a quelle fabbriche che non possono aprire. Ecco loro che hanno messo in testa quello che è il valore della salute delle persone va sicuramente tutto il mio sostegno di tutti i bellunesi. Noi vi siamo vicini ma lo dovrà essere anche l'Europa, il governo, la regione, la provincia stessa, i comuni che dovranno assicurarvi il sostegno economico per riuscire a portare avanti le vostre attività. Un grazie speciale poi lo voglio fare a tutti i medici, a tutti gli infermieri, a tutti gli operatori negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri diurni che stanno dedicando una parte della loro vita per salvare noi, noi bellunesi che purtroppo stiamo soffrendo. Ecco poi permettetemi anche un pensiero positivo, forse non ce ne rendiamo conto, ma guardate noi viviamo veramente in una provincia meravigliosa. Guardate ogni tanto, guardo nelle immagini televisive, quelle persone ammassate nelle grandi città che non possono vedere neanche un pezzettino di verde, che non possono ammirare le nostre montagne. Ecco pensiamo che da questo punto di vista forse noi siamo più fortunati rispetto a loro, perché abbiamo un paesaggio diverso, abbiamo un ambiente diverso. Ecco perché ancora di più dobbiamo rimanere a casa e dobbiamo osservare le regole. Ecco forse stiamo vivendo un qualcosa che mai ci è capitato e mi auguro mai ci capiterà, però di positivo anche che forse possiamo ora dedicarci più a noi stessi, a capire e a comprendere i valori autentici della vita, a capire e comprendere il senso del tempo. Prima eravamo frenetici, non c'era una pausa durante la giornata, ora sì il senso della famiglia. Noi bellunesi siamo persone forti, lo abbiamo dimostrato anche dopo Vaia, ci siamo subito rimboccati le maniche e abbiamo reagito con grandissima determinazione. Ora ci troviamo di fronte a qualcosa di immensamente più grande, di più difficile da affrontare, però se saremo bravi a rispettare le regole sicuramente supereremo anche questa fase e se tutti faranno la loro parte potremo lasciarci alla spalle il coronavirus e potremo tornare a vivere serenamente. Ne usciremo diversi, ma forse anche migliori.